Allora, torniamo in diretta per parlarvi di un festival, il Rosso e Blu Festival, e lo facciamo con l'ingegnere Riccardo, perdonatemi, Riccardo Dricchi, l'amministratore delegato di CSMT Innovative Contamination Hub. Buonasera. Buonasera. E benvenuto nella nostra diretta. Un festival che è fortemente voluto per rientrare un po' anche in un percorso legato alla cultura e nello specifico di Bergamo, Brescia, capitale italiana della cultura 2023. Innanzitutto, com'è nato? Beh, è nato considerando che la manifestazione Brescia-Bergamo, capitale della cultura, è un'occasione straordinaria sicuramente per le due città, per rendere ancora più noti i valori, i valori storici, artistici, culturali di queste due città, magari anche non sempre troppo noti nemmeno ai cittadini stessi. Ma nel contempo è un'occasione che io credo fondamentale per poter considerare che, grazie a questa, diciamo, iniezione di autostima che queste due città possono avere, riconsiderando i valori e i tesori che hanno a disposizione, poter, forti di questo, di questa, diciamo, consapevolezza, interrogarsi, riesaminare quali sono state le certezze e magari anche, ahimè, gli errori visti, diciamo, alla luce oggi dei nuovi tempi, delle, diciamo, di quelle che sono state le prassi e i paradigmi che sono stati utilizzati nel passato. E quindi, a un certo punto, poter cogliere questa occasione straordinaria, dicevo, per poter creare, magari anche, direi anche piuttosto alta, una nuova cultura, una nuova cultura che vada, diciamo, con ottimismo, a concepire e poi magari anche realizzare un modo nuovo di vedere il mondo, un mondo migliore rispetto a quello di oggi. Lo dobbiamo, lo dobbiamo, io credo, sicuramente ai nostri giovani, ai nostri giovani che devono poter essere, diciamo, più ottimisti e guardare con ottimismo al futuro. E da lì, quindi, l'idea che due poli, come il CSMT e il Chilometro Rosso, che sono preposti proprio a stimolare l'innovazione e il cambiamento, con loro non potevamo non cavalcare questo momento e proporre, quindi, un festival decisamente, direi, innovativo e anche fuori dai soliti schemi. E quindi ritroviamo la cultura del lavoro, della ricerca, dell'innovazione, il rosso la passione, la dinamicità e il blu, invece, magari, più la purezza, il pensiero. Sì, qui è su questo abbiamo un po', diciamo, mi consente, un po' giocato, su questo anche perché, perché volevamo, anche dal tema stesso, i dialoghi, i dialoghi primari, quindi tornare un po' alle nostre radici e quindi il rosso, appunto, come diceva, energia e quindi come tale, tra l'altro, e anche si ritrova anche nello stemma di Bergamo. Ed è per questo che abbiamo pensato di fare gli eventi a Bergamo, farli di Marte D, che è il pianeta rosso, e invece gli eventi di Brescia, farli di Giovedì, il pianeta azzurro, e l'azzurro è il colore che si ritrova anche nello stemma di Brescia. Quindi, anche in questo, diciamo, cercare anche in modo un po' ludico, e anche un po' nuovo, e anche più a contatto con la natura, poter trasmettere dei valori nuovi. Sì, perché io leggo nel comunicato il festival dedicato all'innovazione e allo sviluppo etico. Questo, sì, è assolutamente vero, anche perché questo del recupero proprio dell'etica è, come dicevo prima all'inizio, proprio la volontà di riuscire, riconsiderando i paradigmi o gli approcci fino ad oggi seguiti, costruire qualcosa di nuovo e come tale si richiede di complementare la tecnica con l'etica, la scienza con l'arte. L'uomo è insieme di tutto questo. Quindi, è detto da ingegnere, dico, c'è bisogno anche dei filosofi, c'è bisogno quindi che si riesca a concepire pensieri alti, che poi, sì, l'ingegnere riesce ad attuare e a mettere in pratica. Ma la tecnica è uno strumento, non è il fine. Il fine è l'uomo, col suo pensiero, che riesce a concepirlo. Certo, si dice che gli ingegneri sono pragmatici, inquadrati, invece non mi sembra... È una visione umanistica. Allora, cerchiamo di dare anche qualche dritta, perché sono degli appuntamenti che chiaramente proseguiranno fino al 25 maggio, ma nello specifico ci soffermiamo sui nostri appuntamenti, quelli che ritroviamo in città. Sì, allora, solo per dire che comunque oggi è stato aperto il festival presso il Chilometro Rosso, infatti fino a pochi minuti fa ero lì, insieme all'amico collega ingegnere Salvatore Maiorana, direttore del Chilometro Rosso, e abbiamo aperto proprio il festival con un evento molto molto bello, che ha visto la partecipazione di tanti tanti giovani, e proseguirà a Brescia, dicevo, l'11 maggio, con una formula, anche questa nuova, l'abbiamo chiamata Street Bar Camp, nel senso che proprio si esce dalle mura del polo e si va a parlare ai giovani nelle piazze, in particolar modo siamo nella piazza del Broletto, quindi vicino alla piazza del Duomo, e l'11 maggio l'evento, alle ore 18, sarà già dal titolo, secondo me un po' particolare, La scienza del sé, vivere se stessi al più alto potenziale, e ci sarà un professore italiano che però insegna a Miami, che ci porta a ragionare sulla felicità e sulle organizzazioni positive. Come dicevo, i giovani hanno bisogno di sentirsi dire con entusiasmo che è possibile cambiare quello che non piace, c'è speranza e quindi questo è lo scopo certamente di questo primo incontro. Il secondo incontro è il 18 maggio, sempre nella piazza del Broletto, e questa volta il tema sono le neuroscienze, la natura e la qualità della vita, con Andrea Bariselli, neuroscienziato, bresciano, che ha oggettivato il modo, diciamo, di poter percepire il benessere, in termini di qualità dell'aria, di rumore, della vista, e quindi riuscire, e tutti e ambedue questi incontri, e ambedue questi incontri saranno i giovani, gli under 30, che stimoleranno questi due personaggi, dicevo il professore di prima, che viene dall'America, e Andrea Bariselli, per creare, dicevo, questi dialoghi interattivi e stimolanti, credo e speriamo, per il pubblico che potrà partecipare. Il festival si chiude il 25 maggio in CSMT, nel campus di CSMT, iniziando prima con dei laboratori di robotica formativa, proposti da una giovane di 20 anni, che 5 anni fa ha aperto una start-up, quindi era veramente una teenager di 15 anni, e anche questo, per poter educare, si rivolge tra l'altro a studenti delle scuole medie, delle scuole medie, quindi proprio per poter dire quelli che saranno i manager di nuova generazione, quelli di domani, e poi proseguiranno con altri incontri, con incontri poi che si svolgeranno nell'aula magna di ingegneria, parteciperà una giovane astronauta, poi un filosofo, proprio per poter, anche lì, continuare a ispirare, ispirare la mente, aprirla, e aumentare la consapevolezza, ma soprattutto, dicevo, la positività nei nostri figli e nei nostri nipoti. Io la stavo ascoltando e pensavo quanto ci sia bisogno, è vero, di stimolare, o meglio, di sovvenzionare, quindi anche partecipare in maniera economica, i nuovi progetti, però quanto ci sia bisogno anche di stimolarli positivamente i ragazzi, e quindi questo è un plus, senza ombra di dubbio, anche grazie al festival. No, io credo che sia un momento questo in cui ne abbiamo bisogno, perché tutti vediamo che la tecnologia, tra l'altro, per certi versi, affascina, diciamo, l'innovazione, ma anche sgomenta, crea paura, guardiamo tutto ora quello che si sta dicendo sull'intelligenza artificiale, e la chat GPT, e immaginatevi che ora, ad esempio, stanno arrivando anche i quantum computer con una potenza di fuoco terrificante, ma se ben utilizzati, se ben utilizzati, possono migliorare la qualità, non spaventarci, però perché questo accada, bisogna che ci sia, come contrappasso, il peso della cultura nuova, forte, consapevole di se stessa, che sa bilanciare, utilizzare, queste tecnologie, a suo vantaggio, per migliorarci il mondo, perché avere un mondo migliore, è possibile, sta a noi, farlo, e abbiamo la responsabilità forte, anche quindi come Polo, di stimolare, e creare le condizioni, perché questo accade. Complimenti ingegnere, complimenti a voi, ricordiamo anche il sito internet, ilrosso e ilblufestival.it, e ringraziamo l'ingegnere Riccardo Tricchi, l'amministratore delegato di CSMT, Innovative Contamination Hub. Grazie ancora. Grazie a voi.